e bello a tutti ragazzi dal vostro the next mad gamer rieccoci qui un'altra volta con the witcher 3 wild hunt con il terzo episodio e riniziamo da dove avevamo lasciato la trama questo è un piccolo riassunto dove ci dice che ci ricorda la nostra missione della trama principale ovvero che siamo sulle tracce ancora di jennefer però abbiamo una traccia ovvero quel signore che ci ha invitato a giocare a guent a carte la briscola di questo mondo e niente vediamo di avanzare ci siamo persi il cavallo non sa dove sta non c'è sta bene così bene vedrò di tagliare vedi che bello vedi quello che dicono i personaggi se ci metto troppo con questo viaggio ovviamente lo taglio come vi ho già detto l'altra volta vediamo dei core quindi vediamo ecco già sbagliato via bene ci fa parete sta guidando transatlantico mamma mia che caga cazzi niente e corri rutilia capito vado a sbattare addosso alle cose mamma mia ho capito la patente per guidare il cavallo cuoremo corri corri oh lupo oh fama un botte di lupi oh mazza quanti so so troppi mi stanno a meno av su questo è forte bello tosto eccoci qua vincitori maniamo se qualcosa erpani buono erpani eh e ricominciamo il nostro viaggio che è una palute oh che spettacolo no che palle oh ci hanno avvelenato cazzo abbiamo ucciso un drone wow l'ho squartato che spettacolo oh l'ho rotto l'ho rotto proprio bene riviamo il cammino verso il nostro obiettivo vediamo che non faccia avvelenare che se no è tragica la situazione corriamo veloce pistorius eccoce qua guarigione nilf gardiana scendiamo ma gli hanno a piedi qua se no saliamo sopra la gente col cavallo non è educato eccoci qua vai col video militeri camp no locals allowed without the express consent of the garrison commander I look like a local you you look like trouble eh dead wrong I make trouble go away I'm a witcher a witcher faccio passare va capito al volo va dice questo è uno bello imbruttito meglio farlo passare ecco you black ones aren't so scary after all can even be nice if you want to don't get accustomed a bozza zitto caga sotto entriamo belli coatti cornuto cornuto vai con un altro video troppe bippe eh troppe bippe 40 bushel there'd be more sir but our lads the tamirians that is took from us earlier you will give 30 and that will do let us settle on it and I wish to see the transport soon oh thank you sir thank you kindly I summoned only the Elderman and the smith, Willis but it is said he is a dwarf you are too tall to be him fucking so far bravo very perceptive of you Geralt of Rivia, Witcher Ratgarn this explains why I did not hear your footsteps what do you seek here Yennefer Wengerberg where is she? that is a secret military I haven't thrown out yet I can't go to the cards so go ahead what's your price? there is a griffin ah there is a griffin I know and then I will see what I can do why do you care about this griffin? because I care about people because I am so much I have asked for questions I have already done including a few of my men to hunt it I would need to mobilize the entire garrison comb the woods organizer Batuu simply impossible tranquillo c'è siamo noi che vi risolvemo tutti i problemi I cannot disperse my forces to marry his army we have crushed but it's common folk remain ready to answer a call to arms ah vedi ci ha dato del professionista ah si allunga questo ok affare fatto ma ma ridotti male proprio va bene va bene sarà una bella sfida allora cerchiamo di avere altre informazioni sul griffino perché dobbiamo essere preparati perché sex why it's abandoned its lair shall I bring you witnesses they won't say anything I don't already know I need to go where your men died look around what's the name of the hunter who found them Mislav Miloslav Klose è matto è un po' strano va bene ci serve l'erba ce l'hai? spingervino che nomi strani proprio vabbè tipico della letteratura fantasy proprio spingervino ma ok quindi dobbiamo andare dall'erborista e da Mislav Mislav come si chiama Tomira e Mislav grazie grazie più obiettivi scelgo quale obiettivo seguire allora ok quindi chiediamo prima l'erboristeria andiamo al volo proprio ovviamente questa parte la taglierò e voi vedrete solo quando arriverò al insomma a quella l'erborista Tomira bene ci vediamo lì bella ragazzi eccoci qui ragazzi di ritorno abbiamo sfruttato il viaggio rapido vediamo di arrivarci a piedi insomma che è vicino ecco quantanto io mi vado un'altra volta anche a strada da qualche parte ecco qua siamo ritorna ma zi bel culo erbite passa gli erbite ah ragazzi spacciatrice d'erba è stato il grifone stavo come sta messa qui stavo è una spia stava in bosca è ma da aiutarla ma se finaccio dai daccio spincer vino dai sul fondo del fiume dove il canale si allarga bene quindi spero che questa cosa delle erbe che si possa usare come esca spero sia una meccanica non solo di questa missione ma anche una meccanica libera sarebbe una cosa molto interessante gli oscuri non riesco a capire perché gli uomini erano uomini normali li chiami oscuri questa è una cosa da capire nilfgaard desidera l'ordine ecco una cosa per porta esatto rispetto agli altri giochi gdr comunque devo dire che sono molto più espressivi in le facce dei pg dei npc soprattutto l'occhi che prima pareva che c'erano tutti spiritati tipo oblivion roba così pure dragon age aspetta chiamamo il cavallo canda arriva eccolo dai erudilia corri corri dai su e non faccia storie ben cavallo su che io sono amo impegnato da non ammazzare i grifoni c'ho il cavallo 4x4 e taglio per i boschi io intanto c'è sta nelle strade però non le uso perché siamo proprio agab e io niente sta ambriaco per pg mio bene quindi cosa devo fare devo cercare quei sensi da witcher ottimo trails fresh miro slav close prendemola ecco le tracce continuiamo a seguire le tracce e troveremo mislav ok ah dritto dritto eccolo dai e close dice un po qualcosa no guarda mi serve un apparecchio dell'amplifon non ho sentito no wild dogs yes more dangerous than wolves ok sfottemolo un pochetto questo è sta a caga sotto per un par dei cani no dimmo dai vuole far sapientino con noi eh wild dogs vabbè comunque se te incontrano te mozzicano lo stesso quindi stanno pari bene bene molto interessante national geographic by mislav mislav come piero angela proprio si 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 grande entusiasmo da parte del nostro Geralt ok ok ammazzamo sti cani no la mia nama del gente non serve serve quella di ferro vedi sai proprio un cazzo no e fai tanto il saputello so step careful now come on ii 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 eccoli bene così due uccisi erano solo questi? no non penso ecco ora devo indagare oh mi ha salvato il culo ha ammazzato quello con la freccia ah dobbiamo parlare con Close Close dice un po' dai no no questo sta bene dai gli dai nochi e gli passa tutto ok prima che cosa facciamoci i cazzi di questo signore questo ci nasconde qualcosa ah no facciamo un po' cerchiamo cerchiamo di ottenere altre informazioni vedo un altro tipo di oh un licantro boh no che spettacolo cioè questo si trasforma in lupo no ah era ricchio è solo ricchione cazzo credevo solo che era un un licantro invece è solo un ricchione vaffanculo va no no vattene via dai basta mi dispiace no no non mi dispiace mi frega un cazzo proprio via basta no no questo mi fa brutti scherzi oh no no fermo attenzione abbiamo ottenuto un punto abilità no no un tanto vattene vai vado io davanti no tu avanti e io dietro non voglio scherzi da prete vabbè si ok sviluppo del personaggio quadrato per acquisirla attacco rapidi sfera attacchi rapidi in mischia con qualsiasi spada attacco potente eh difesa della scuola del lupo balestra leggera ok fateci piano ho capito mamma mia questo qua degli attacchi rapidi perchè non me la fa piano ah perchè questi già ce l'avevo mamma epic fail scusate ragazzi non so ancora pratico questo diciamo questa schermata di sviluppo del personaggio attacco rapido ok si aumentiamo il danno degli attacchi rapidi bene così fatto oh non molto non è il mio tipo di game seguiamo il scacciatore no l'instanzi survival solo non dovete farvi care io andrò silenzio nella piazza nessun griffin può sentire nemmeno mi spiare a me sa che abbiamo fatto una grande stronzata perchè mo questo ci sta portando dal ehm grifone e noi non abbiamo preso lo spin cervino eh non vorrei fa sta cazzata qua vabbè sti cazzi dai ci fammi aiuta da questo penso sia la la cosa più interessante da fa intanto noi teniamoci a distanza se no questo gli viene strane idee guardate che bello intanto la vegetazione come si muove col vento cioè col vento una cosa che mi piace molto di questo gioco è che ci sta insomma i cambiamenti climatici cioè adesso siamo sereno però c'è quasi al tramonto cioè si penso siamo al calar del sole proprio che spettacolo ragazzi una cosa proprio una gioia per gli occhi vedete guardate le nuvole cioè pare un cielo vero allora guarda qua clamoroso clamoroso proprio bellissimo ok dai dai mislab su intanto se intravede tante pozze di sangue benissimo bene bel quadretto che ci descrive intanto mislab ok non la caverò dai tutto sotto controllo ragazzo tranquillissimo ora massimo morimo eh cioè te che te frega ok ok andiamo a trovarlo spin cervino oppure no da analizziamo la scena del crimine fa un po' muo tanto è la noire stavano festeggiando era un addio al celibato molto probabilmente che devo analizzare niente ci sono le pozze di sangue però non me le fa analizzare i primi sono più vecchi e più profondi fortemente armati ilfgardiani probabilmente va ah vanno dall'altra parte le impronte strano perchè noi siamo uniti all'altra parte cioè da sta parte qua ma però mi dice che devo perchè? ah sicuramente me fa che qua roba che so l'uvi? so i luvetti? ah mua scendiamo qua raccogli kit di rivalazione di armature per principianti oren lino oppure di continu- ah e qua le tracce che continuano bene bene così salimo qua sopra continuiamo a salire lo so lo so sta massa lì uuuu attenzione vedo sei zupu la gente tutta morta vedo la gente morta proprio cioè hanno già ammazzato il grifone ma hanno levato il divertimento no c'è presa male ah no esaminiamo le ferite l'uvi lì 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 si ammazzano pure tra di loro lì lì la città la città lì 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 bene dobbiamo fronteggiare una vera e propria bestia penso che sia pure bello un cazzato sicuramente prepararsi eh no quella mi pare una cosa fatta cioè è molto importante da sapere che è qua cosa bianca che cazzo è oh ma che ma sono vespie ma che ma io stupido che sta pure a cercate pia ecco ottimo ho fatto un bel volo va bene ragazzi ci vediamo sul fondo del fiume per recuperare lo spin cervino bella e rieccoci qui ragazzi sulla sponda del fiume per cercare il famigerato spin cervino e per prepararsi appunto alla battaglia con questo famigerato ehm grifone bene e niente intanto il cavallo che ci spunta da dietro per farci qualche scherzetto eccoci qua recuperiamo questa roba la polvere di strammerd e nuotiamo ok immergiamoci per cercare lo spin cervino ecco ecco sarà questo ecco l'ammazza già trovato riemergiamo dai ah fai si o no niente eh piano piano ok benissimo e niente ragazzi speravo che era una cosa un po' più difficile da da ottenere sto pin cervino però noi abbiamo fatto con due secondi abbiamo risolto adesso siamo pronti per la battaglia con le il grifone sto benedetto grifone che vedo l'ora di fai il culo però lo batteremo o almeno cercheremo di batterlo il prossimo episodio quindi per questo episodio è tutto un saluto dal vostro the next mad gamer bella a tutti ragazzi